Questo è Minutaggio, lo show che in pochi minuti ti sveglia i segreti di videomaking e montaggio. Ok, nelle puntate precedenti abbiamo importato i nostri file dentro DaVinci Resolve. Adesso è arrivato il momento di montarli. Per montarli dovremo andare ovviamente nel pannello Edit. Prima di iniziare a spiegarti come funziona, ti devo spiegare che cos'è una Timeline. La Timeline nei software di montaggio oppure nei software di postproduzione in generale serve per mettere tante clip una dopo l'altra e quindi avere effettivamente un montaggio. In questo caso la Timeline è questa. Questa riga rappresenta il tempo e più avanti si va più il video progredirà. La Timeline in DaVinci Resolve è questa e quindi mettendo una clip dopo l'altra vedremo effettivamente un montaggio. Ora finalmente ti posso spiegare come è organizzata questa vista. In questa sezione c'è il Media Pool, lo avevamo visto nello scorso episodio. Il Media Pool serve per raggruppare tutti i file video, audio, immagini che potrai utilizzare all'interno di questo progetto di DaVinci Resolve. Nella scorsa puntata abbiamo importato queste cartelle contenente questi file. Come puoi vedere la sezione illuminata è Media Pool, però noi possiamo vedere anche queste sezioni che attualmente sono disabilitate. Cliccando su Effects Library mi uscirà questo pannello in cui ci sono tutti gli effetti di transizioni audio, transizioni video e così via. Lo vedremo in una puntata apposita. Edit Index che ti dice tutti i tagli che hai fatto nel montaggio. Sound Library se hai una libreria di suoni qui ti usciranno tutti i suoni che hai importato nella libreria. Questo sarà anche un video futuro. Questa finestra ti serve principalmente per vedere le clip che hai nel Media Pool e quindi per vedere effettivamente che cosa hai registrato. Questa finestra ti serve per la timeline. In questa sezione di DaVinci che è attualmente disabilitata puoi abilitare i metadata, il mixer che viene abilitato qui sotto e l'inspector. I metadata sono i dati relativi ai video, ai file che stai utilizzando. L'inspector invece ti dice tutte le proprietà che puoi modificare di quel video. Vediamo una cosa per volta. Innanzitutto, come faccio a creare una timeline? Quindi come faccio effettivamente a fare un montaggio? Ci sono due modi per farlo. Il modo lungo è questo. Tasto destro, Timeline, Create New Timeline. Facendo in questo modo mi creo una nuova timeline e mi uscirà questa schermata in cui posso scrivere il nome della timeline, eccetera, eccetera. Un modo veloce invece di creare una timeline è di trascinare una risorsa, video, audio, immagine, all'interno della timeline. In questo modo, come puoi vedere, mi ha creato una timeline con un nome di default chiamata Timeline1 e posso effettivamente trascinare questo video all'interno della timeline. Ma dato che ci piace fare le cose difficili, creiamola nel modo più complesso possibile. Questa timeline la chiamerò Master. Ho bisogno soltanto di una traccia video, una traccia audio e la traccia audio sarà stereo. Non ti preoccupare di tutte queste cose, te le spiegherò in futuro. Clicchiamo su Create. In questo modo mi ha creato questa timeline. Io nel progetto posso avere tutte le timeline che voglio. Se voglio avere un'altra timeline, la posso creare senza problemi. La chiamerò Master 2. E le timeline compaiono, come puoi vedere, nel Media Pool. Ok, come faccio a fare un montaggio? Quello che faccio solitamente io è fare doppio clic sul video che voglio usare per il montaggio. Mi seleziono il punto della timeline in cui succede effettivamente quello che voglio. clicco su questo pulsante che mi identifica il punto di inizio della clip. Quindi in questo momento sto facendo un taglio. Identifico il punto di Out con quest'altro pulsantino. E trascino questa clip nella timeline. Come puoi vedere mi ha messo nella timeline questa clip. Con i pulsanti Mene e Più faccio uno zoom della timeline. Questa clip dura 4 minuti e 20 secondi e ha una traccia video e quindi ci sarà un video e 1, 2, 3, 4 tracce audio. Solitamente una clip normalissima, ad esempio questa è quella che ho registrato con la telecamera. Faccio in, out, importo, ha una traccia video, come puoi vedere, e una traccia audio. Posso spostare le cose nella timeline in questo modo, trascinandole semplicemente. Posso anche accorciare il video e allungarlo. Mi raccomando per fare tutte queste operazioni ricordati di avere questa freccetta abilitata. Questi sono tutti gli strumenti che puoi utilizzare all'interno della timeline. Li vedremo in video futuri. Questo per adesso penso sia abbastanza. Puoi già cominciare a fare i tuoi piccoli montaggi. Per dubbi o domande scrivimi qui sotto oppure su Instagram, altrimenti fine lavorazione.